Il caro benzina incendia l'estate 2023 anche in Abruzzo. Il cartello con i prezzi medi dei carburanti non ferma gli aumenti, con la verde in alcuni casi che ha sfondato quota 2 euro e mezzo. Sul caso è stata presentata una segnalazione alla Guardia di Finanza. Dal primo agosto le fiamme gialle hanno effettuato molti interventi, trovando tra l'altro molte irregolarità. Ma intanto non si fermano le polemiche con l'opposizione che attacca il governo. Secondo il ministro per le imprese, Adolfo Urso, grazie alle misure del governo in Italia il prezzo industriale di benzina e gasolio, depurato quindi dalle accise, è stabilmente più basso di Germania, Francia e Spagna. La misura introdotta dal governo dal primo agosto, l'esposizione sul tabellone che indica ogni distributore il prezzo medio praticato in quel giorno, ha consentito al consumatore in piena consapevolezza di scegliere dove rifornirsi al prezzo più basso, ha detto Urso. Ieri il ministero per le imprese con una nota ha affermato che il prezzo alla pompa è sostanzialmente stabile. Le opposizioni non ci stanno e attaccano. Le dichiarazioni del ministro Urso sulla situazione dei prezzi dei carburanti che sarebbe migliore di quella degli altri paesi europei e sulla presunta piena efficacia dei cartelloni con il prezzo medio di benzina e gasolio sono del tutto fuori dalla realtà, dicono. La verità è che le misure contro il caro carburanti varate dal governo Meloni si sono rivelate un buco nell'acqua.